SIGLA Sai che mi piace di te? La voglia che hai di vivere. Noi non siamo solo dei numeri. Siamo degli esseri umani. Bravo! Ma tu ci pensi quando io non ci sarò più? Come farai, stronzo? Ma che dici? Ma che domande fai? Non dirle neanche per scherzo queste cose. Tu sei forte. Tu sei forte. Spereremo il terrestre. Vedi Savo? Un pizzico di ricordo io vorrei lasciarlo. Penso che questo sia il modo giusto per farlo. Si vede passare di tutto dagli ospedali. Chiara! Dal nostro ospedale. Ci vorrebbero centinaia di persone come te in questa città per dargli una svolta. Ho un tumore. Come questo? Con rotone ci mette la faccia. Suona bene, eh? Così stiamo rischiando di brutto. Ma stiamo già rischiando! Non noi tutti! Sì. Spero che presto tu sia libero. Dio non mi ha mandato un amico fraterno. Sei una piaga! Che cosa serve avere il pane sulla tabla? Eh? Se sei tre metri sotto terra. Dario, mi dispiace di dire questa cosa, ma se si mangio in questa casa si mangia anche perché ci sono quelle persone.